Si svolgerà oggi pomeriggio il vertice a Palazzo Chigi per varare la missione chiamata Mare Sicuro. Il Premier Letta ha convocato i ministri interessati per dare il via alla missione militare di pattugliamento. L'incontro servirà a definire gli ultimi dettagli dell'operazione che dovrebbe partire domani nel Mediterraneo. Obiettivo impedire altre tragedie del mare moltiplicando i mezzi navali ed aerei. L'Italia si chiama così ad un maggiore impegno per cercare di arginare il dramma dei profughi che arrivano sulle nostre coste. La Marina Militare ha fatto sapere di essere pronta con più uomini e mezzi per affrontare un'emergenza che diventa sempre più grave. Il Ministro della Difesa Mario Mauro ha garantito che le coperture si troveranno. Intanto il mare di Lampedusa continua a restituire ai corpi dei migranti, sei cadaveri recuperati ieri che vanno ad aggiungersi al bilancio pesantissimo del naufragio del 3 ottobre di 363 vittime. Mentre a largo dell'isola dove è avvenuto il secondo naufragio venerdiscorso, la Marina Maltese ha recuperato il corpicino di un bimbo di tre anni. I morti finora sono 38, ma si teme che potrebbero essere molti di più. Sulla banchina di Porto Empedocle sono sbarcate le bare trasferite a bordo della nave Cassiopea, i camion diretti verso il cimitero di Agrigento dove saranno tumulate le bare sono partiti fra le grida di dolore e gli applausi. E l'onda di sbarchi non si ferma. Nella giornata di ieri altre due imbarcazioni con a bordo 368 migranti sono state soccorse fra Malta e la Sicilia, mentre a largo di Reggio Calabria le motovedette della Guardia Costiera hanno intercettato e scortato in porto un altro barcone con 226 persone, fra loro anche gli schiafisti.